Siamo qui con sportsmall.it per raccontare questa bellissima nuova favola che riguarda il mondo dell'impiantistica sportiva. Siamo qui con, le vedete sono 5, sono i 5 Sport Consulting, così questa è la nuova formazione che parte oggi raccontandosi per quello che sarà questa nuova avventura. Partiamo appunto con le presentazioni di voi 5. Matteo Gerli, gestore impianti sportivi. Sono Donato Foresta, sono commercialista e docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI. Io sono Claudia Paris, sono una consulente aziendale e sono anche un ex atleta come i miei soci, che sono un ex atleta dell'Atletica Leggera. Amedeo Rovatti, sono avvocato, anch'io ex atleta, vengo dal nuoto che ho praticato per diversi anni, troppi forse. Giuseppe De Martino, architetto, docente della Scuola Regionale dello Sport, ex atleta di vela e allenatore nazionale di paracadestro. Allora Claudio, com'è partita l'idea di questa bellissima avventura? L'idea si è formalizzata quest'anno, quando è creata questa società di servizi che fa consulenza per il mondo sportivo. In realtà noi lavoriamo insieme dal 2008 perché abbiamo aiutato Matteo e gli altri due soci dell'Enjoy a creare questo bellissimo centro sportivo dove oggi abbiamo il seminario su appunto la rinascita degli impianti sportivi. Io e Matteo davanti a un caffè abbiamo lanciato questa idea di formalizzare questa esperienza che ci ha unito in questi anni. e poi è cominciata un po' l'avventura formale di mettere insieme le nostre cinque professionalità che sono cinque professionalità complementari a poter gestire tutto il processo che aiuta il pubblico e il privato a unire dei bisogni che sono uno del pubblico, quello di potenziare diciamo gli impianti sportivi e quindi fornire dei servizi alla collettività e il privato che vuole buttarsi nella gestione degli impianti sportivi stessi. Vedi un po' raccontare quali sono i vostri ruoli all'interno di questa formazione A5? Sì. Io mi occupo prevalentemente di quello che poi sarà la gestione degli impianti quindi dall'organizzazione delle attività, la formazione del personale e nella creazione sia dell'aspetto architettonico che del business player lavorando insieme a Claudia e a Giuseppe per ottimizzare al meglio quelli che sono gli spazi e le attività che devono produrre reddito per far stare in piedi l'operazione. Io invece ho un ruolo nella parte iniziale, nello studio dell'assetto societario migliore sia nella fase di proponenza che nella fase della giudicazione, post-aggiudicazione della gara e intervengo nella redazione del business plan in collaborazione con gli altri colleghi e in particolare nell'analisi della bancabilità, quindi della valutazione della bancabilità del progetto fino all'ottenimento di finanziamenti. Io invece ho il compito principale di tenere insieme i miei quattro soci e poi fondamentalmente tengo le fila del business plan e lo sviluppo del business plan quindi c'è tutta una parte di simulazione, di documentazione da mettere insieme di analisi economiche, analisi finanziarie che poi sfociano in indici di bancabilità che appunto sono quelli che poi servono per andare a chiedere i finanziamenti agli istituti di credito. Io mi occupo ovviamente degli aspetti legali sia prima della partecipazione alla gara sia durante la partecipazione alla gara sia nella fase di esecuzione del contratto di appalto o di concessione e quindi lavoro a stretto contatto soprattutto con l'architetto De Martino e anche con il dottor Foresta per quanto riguarda da un lato gli aspetti della documentazione da presentare per la gara e dall'altro con il dottor Foresta per quanto riguarda gli aspetti societari nella creazione dei raggruppamenti che poi parteciperanno alle gare. Io faccio la parte divertente, disegno gli impianti, faccio la parte creativa, chiaramente la parte degli scherzi diciamo che faccio la parte più centrale dell'inizio del lavoro ovvero quello che viene realizzato o nell'impianto nuovo o nell'impianto da ristrutturare in accordo con gli altri componenti del team vediamo di dare una forma alle idee dei nostri clienti e questa diciamo che è la parte creativa. Chi mi suona sugli obiettivi invece della società? Della società che si sposa molto bene con l'incontro di oggi la società che coniuga un po' la nostra passione di ex sportivi, ex atleti con la professionalità è quella di fare veramente qualcosa di concreto per lo sport vogliamo esaltarci lo sport italiano siamo convinti che bisogna partire da una rivalutazione degli impianti ci siamo resi conto che nel processo di ristrutturazione, di riviatillizzazione degli impianti c'è una grossa componente burocratico-amministrativa che frena le partenze ecco il nostro obiettivo è proprio quello di essere un team già pronto, affiatato sia dalla parte dell'amministrazione pubblica che dalla parte del privato per superare gli ostacoli che possono impedire la rinascita degli impianti sportivi quindi la rivalutazione dello sport italiano partendo proprio dalla ristrutturazione degli impianti sistemazione degli impianti siamo qui con questo obiettivo oggi ed è l'obiettivo poi principale della nostra società A voi chi si rivolge? A noi ci si può rivolgere sia il privato che vuole avviare un sogno quindi quello di diventare gestore di impianti come è accaduto proprio nell'impianto in cui ci troviamo ma anche la pubblica amministrazione nel momento in cui decide di voler far qualcosa diciamo di concreto per la propria impiantistica sportiva del proprio territorio Ok, per Sposbon è tutto direi, se potete fare un saluto siamo molto contenti Grazie e arrivederci Venite a trovarci Grazie e arrivederci Vi aspettiamo Grazie Sport Small per dare voce veramente a ciò che serve allo sport italiano Grazie anche da parte mia e che i sogni possano diventare realtà Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti